Buongiorno a tutti! Oggi Trieste Villas nel cuore di Trieste, siamo in Piazza della Valle, nel cuore del quartiere di Cavana. Vi presentiamo un appartamento di 280 metri quadri all'ultimo piano di Palazzo d'Epoca con ascensore. La sala principale con cucina vista, isola meravigliosa e ben quattro finestre che ci danno una bellissima vista sui tetti del centro di Trieste. Vediamo il carso, abbiamo una bellissima luce che ci entra, appartamento di 280 metri quadri, si sviluppa AL, abbiamo uno studio all'ingresso, questo grandissimo salone, tre camere da letto, due bagni e a concludere abbiamo 40 metri quadri di soffitte proprio sopra me. Palazzo d'Epoca, quindi soffitti alti, recente ristrutturazione e la possibilità di subentrare con contratto d'affitto a un box auto proprio qui sotto in Piazza della Valle. Una proprietà importante, davvero molto bella, Trieste Village, via Torino 34, ciao!